Sei pronto per una nuova rivelazione bomba dal grande fratello? Bene! Preparati perché Alessio potrebbe essere al centro di un vero e proprio dilemma. Pare che abbia condiviso un segreto con un'altra concorrente e ora si trova di fronte a una decisione difficile che potrebbe causare dispiacere a qualcun altro nella casa. Alessio è entrato da poco nel reality. Ma ha già conquistato l'attenzione di tutti per la sua schiettezza e il suo aspetto fisico che ricorda quello dell'attore Hugh Grant. Inoltre, la sua simpatia lo ha reso molto popolare tra gli inquilini, che si sono affezionati a lui in pochissimo tempo. Due concorrenti sembrano aver stretto un legame particolare con Alessio, Perla e Anita. Perla ha spiegato che tra lei e Alessio c'è solo un'amicizia forte, ma non tutti sembrano crederle. Anita, invece, ha rivelato di provare qualcosa di più di una semplice simpatia per Alessio. Mettendo in dubbio la relazione che aveva fuori dalla casa con Edoardo. Ma la bomba vera e propria è stata sganciata da Dejanira Marzano su Instagram. Pare che Alessio sia sempre più vicino a una concorrente e che ci siano state confessioni e abbracci teneri durante la notte. Alessio si trova ora in una situazione di confusione, poiché sembra interessato anche a un'altra concorrente e percepire la gelosia di lei. Insomma, la situazione si fa sempre più intricata nel grande fratello. Resta connesso per scoprire come si risolverà questo triangolo amoroso inaspettato. Resta connesso per scoprire come si risolverà questo triangolo. Resta connesso per scoprire come si risolverà questo triangolo.